Poniali d'Abruzzo ricche di nuove esperienze in una settimana da incorniciare per giovani coccolati dalla Federazione Sport Equestri che rispetta la crescita della linea verde l'alimenta senza correre facendo dell'aspetto ludico il punto di forza per nuove prospettive. Presso il circolo ippico teaterno di Chetiscalo riflettori puntati anche sul dressage, discipline equestre che viene anche chiamata gara di addestramento cavallo e cavaliere eseguono movimenti geometrici. Il dressage ha come obiettivo la trasformazione del cavallo da animale libero ad atleta idoneo ad esprimersi come l'uomo nel mondo dello sport e della competizione vera e propria fusione tra uomo e cavallo con l'immediata traduzione dei pensieri dell'uno in movimenti dell'altro l'istruttrice Donatella Caniglia. Il dressage è una disciplina olimpica nella quale il binomio cavaliere e cavallo devono eseguire una ripresa quindi un grafico alle tre andature e dimostrare al giudice che la loro naturalezza nello svolgere e nell'esecuzione di questo grafico. Poi ci sono ovviamente vari livelli dal più elementare al più difficile in cui ogni concorrente in base alla patente al grado di addestramento del cavallo e del cavaliere si iscrive alla categoria anche in base ovviamente alla scelta dell'istruttore. È una disciplina importante per imparare, insegnare al binomio a condurre al meglio possibile il cavallo che poi è alla base la conduzione di tutte le discipline. Io mi chiamo Sara e il pony si chiama Pisolo. E com'è andata la tua esibizione? Molto bene e è andato molto bene al trotto. Ti è piaciuto? Sì. Baccavallo? Sì. Si comporta bene? Molto. E poi il concorso completo è introdotto da poco nel settore dei giovani tra le tecniche più spettacolari tra le discipline dell'equitazione. Prevede il superamento di diverse prove, ognuna delle quali richiede specifiche abilità del binomio cavallo-cavaliere. In occasione dell'eponia di D'Abruzzo è stata di prestigio la presenza del maresciallo Dino Costantini, vero e proprio guru del completo. Il palmares, sette preparazioni olimpiche, due olimpiadi a Seul e Monaco, sei volte campione italiano. Un vero e proprio mito. Una disciplina che è molto formativa. È importantissimo per i ragazzi, per i bambini, iniziare a fare le prime esperienze nel completo, in modo da poter creare come formazione delle bassi solidi che permettono poi di andare avanti e di formarsi come cavalieri ed anche come solidità e fermezza di assetto. Questo aiuta molto il lavoro fatto in campagna.